Il lusso non è solo per pochi. Il lusso è per chi si sa regalare un momento speciale. Il pranzo della domenica si tinge d'oro al Golden Palace di Torino e diventa brunch per la famiglia. Un ricco buffet per grandi e piccini, con assistenza e giochi per i bambini in un'area dedicata. Il brunch della domenica al Golden Palace. Un piccolo lusso per tutti, per tutta la famiglia.